ciao benvenuto in questo nuovo video della serie spiega qualcosa qualcuno e se lo dimenticherà faglielo fare e se lo ricorderà per sempre perché andiamo a prendere degli argomenti di cui abbiamo parlato negli ultimi video più teorici dove abbiamo parlato di scale maggiori di alterazioni in chiave di cinque posizioni andiamo a provarle a metterli su una tonalità insieme oggi lo facciamo con i bemolli prendiamo la scala di si bemolle maggiore e proviamo a ricavarci le cinque posizioni così provi insieme a me le suoni quindi prendi il basso e poi l'invito è quello di cambiare le tonalità e farlo te così se ti vengono qualche dubbio puoi scrivermi qua sotto a me fa piacere e nel limite delle mie conoscenze e possibilità sarò felice di risponderti allora dicevamo si bemolle maggiore prima cosa alterazioni in chiave scala coi bemolli quindi nei diesis avevamo il nostro ordine dei diesis che partiva da fa e faceva fa do sorre la mi si la nostra saetta invece nei bemolli l'ordine inverso quindi parte dalla fine dal si e torna indietro si mi la re sol do fa nel caso di si bemolle maggiore il si è già la prima nota che che troviamo quindi ci basterà aggiungerne una dopo si viene mi si mi e quindi la nostra scala di si bemolle maggiore a due alterazioni in chiave che sono si bemolle e mi bemolle facciamola il controllo con l'altro metodo posizione 24 12 4 1 3 4 andiamo a prendere si bemolle col dito 2 e andiamo a suonarci la posizione 2 4 1 2 4 1 3 4 andiamo a vedere che nota abbiamo suonato si bemolle do re mi bemolle fa sol la e si bemolle ok quindi abbiamo appurato che la scala di si bemolle a queste due alterazioni in chiave adesso per le cinque posizioni andiamo a partire senza prendere corda vuoto dalla nota più grave che abbiamo e nelle cinque posizioni ricordo che non dobbiamo spostare la mano quattro dita quattro tasti non partiamo per forza dalla tonica ma dal da altri gradi della scala e prendiamo più note possibile quindi ci stacchiamo da questa cosa della scala maggiore da tonica tonica e allarghiamo alcuni mi hanno chiesto ma si ragione modale così da un lato potrebbe anche essere nel senso che parto da un altro grado e quindi vado a costruirlo però nel modale io dovrei farlo da tonica della modale all'ottava mentre qua nella nelle cinque posizioni andiamo ad allargare ancora di più il concetto perché vado a prendere tutte tutte le note quindi non sono per forza legato ad una tonica se non quella della tonalità comunque d'appartenenza quindi partiamo allora la prima nota che avrei trovato si bemolle maggiore poteva essere un fa ma fa io avevo fa sol la naturale corda vuoto e quindi questa posizione poi me la ritroverò poi più comunque avanti e quindi dopo il fa viene il sol dito uno perché fa sol scusami sol dito uno perché so la si bemolle me lo trovo con con il mignolo avevamo visto nell'altro video quello dei diesis dove o partiamo con l'indice o partiamo col medio se partivo con col medio facevo sola e poi mi veniva da suonare il si naturale mentre invece qua siamo in si bemolle quindi devo partire col dito uno quindi sol suonali con me se riesci visualizzali sulla tastiera che grado è il sol rispetto al al si bemolle e la sesta sol la si bemolle tonica do re mi bemolle fa sol attenzione qua devo fare lo scivolamento perché col mignolo avrei il per prendere un la dovrei fare un allargamento quindi cinque tasti cosa non affrontata nelle cinque posizioni quindi dopo fa e sol per prendere la faccio uno scivolamento di un tasto verso la paletta vado a prendere la naturale e conclude la mia posizione non muovendo la mano la si bemolle che la tonica e poi ho ancora al do che la seconda o la nona dipende dalla dall'altezza in cui la prendiamo torniamo indietro mi raccomando quando torni indietro torna poi in posizione quindi dallo scivolamento adesso mi spiego meglio do si bemolle la per il sol non lo prendo col mignolo che mi verrebbe anche comodo a mano ferma devo tornare indietro perché io quando salivo e avevo fatto fa sol con l'anulare poi avevo fatto lo scivolamento quindi devo farlo scivolamento al contrario verso e ritornare come ero andato su quindi do si bemolle la con l'anulare sol poi attenzione qua mignolo mi bemolle re do si bemolle la e sol seconda posizione dopo il sol viene la la si bemolle questo è facile do re mi bemolle fa sol la si bemolle do re e mi bemolle ok una volta che ho fatto il la poi vado in si bemolle quindi da qua parte la mia strada autostrada perché la posizione 24 124 134 deve essere veramente dentro di te e quindi fino al si bemolle acuto facile poi vado a continuare completare la posizione con le note che mi rimangono ancora sulla corda di sol terza posizione partiamo dopo la si bemolle sono la stessa posizione perché sono a distanza di semitono sarebbero praticamente uguali se non per una nota quindi parto da quella dopo che è il do secondo grado parto con l'uno do re mi bemolle fa sol attenzione qua scivolamento come abbiamo fatto prima su la si bemolle do re mi bemolle e fa e poi torniamo indietro fa mi bemolle re do si bemolle la anulare torna in posizione sol fa mi bemolle re e do quarta posizione dopo il do viene il re partiamo con il dito uno re mi bemolle fa sol la si bemolle tonica do re mi bemolle fa sol e qua mi fermo perché la nota dopo sarebbe un la dovrei fare un allargamento e quindi la mia posizione termina qua torniamo indietro sol fa mi bemolle re do si bemolle da sol fa mi bemolle e re ultima posizione quella che ho saltato prima perché prendeva la corda a vuoto partiva da fa mi bemolle l'ho saltato perché re mi bemolle sono a distanza di semitono già spiegato nell'altro video partiamo da fa col dito due fa il fa è il quinto grado fa sol la si bemolle do re mi bemolle fa sol la si bemolle qua sono andato un po più veloce perché è abbastanza facile una volta che ho fatto fa sol la sul si bemolle vado col dito due e qua anche la mia autostrada per finire poi su si bemolle acuto torniamo indietro si bemolle la sol fa mi bemolle re do si bemolle la sol e fa benissimo queste sono le cinque posizioni mi raccomando se ti vengono dubbi scrivimi qua sotto io ti rispondo mi fa molto piacere e noi ci vediamo poi al al prossimo video fammi sapere se ti sono utili questi video dove ti faccio suonare nella speranza di di trasmetterti qualcosa grazie ancora e ci vediamo alla prossima ciao carlo ciao 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 ciao